Onorevole Sant'Anchè, come è stato il suo Natale? Punto. Per la prima volta l'ho passato senza madre, fratelli e nipoti. L'ho sempre considerato un momento in cui ridare importanza alla famiglia. Quest'anno non ci è stato consentito molti sono stati colpiti dall'immagine del 94enne Fiorenzo che ha chiamato i carabinieri per un brindisi. C'è un'Italia bella, lasciata colpevolmente in solitudine, punto. Sì, e quell'Italia bella sta pagando il prezzo più alto delle bugie del premier. Lui a ottobre ci aveva detto, chiudo adesso perché voglio farvi passare un Natale in famiglia. Poi invece non ci ha fatto festeggiare il Natale e ha diviso le famiglie. Gli italiani si sono dimostrati rispettosi delle regole, ma si domandano, cosa accade dopo il 6 gennaio? Fino a quando dovremo abituarci alla logica dell'apri e chiudi, punto. Io non so fino a quando andrà avanti perché l'esecutivo non ci mette a disposizione i documenti del Comitato Tecnico Scientifico. Di certo, le aperture a sindiozzo sono devastanti perché creano incertezza in ristoratori, commercianti e artigiani. A loro il governo si è limitato a dare ristori, mance, anziché veri indennizi, come in Germania. Siamo in guerra ma coloro che guidano il paese non pensano alla ricostruzione. Mi sembrano marziani, distanti anni luce dalla Terra.